Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito pro audio learning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti abbiamo già affrontato Sonarworks su questo canale diverse volte. Sono stato uno dei primi a parlarne e a fare tutorial sul sistema di calibrazione cuffie e casse che viene fornito ora in questa nuova versione con un diverso nome Sound ID. Per chi non lo conosce facciamo un riassunto. Che cosa fa Sonarworks? Per chi ancora non sa a cosa serva Sound ID è un sistema creato appositamente per correggere sia la curva della risposta in frequenza della cuffia sia per calibrare la risposta delle casse monitor in un ambiente home studio come in un ambiente pro studio. Ma perché dovrei correggere una cuffia o le casse? Le cuffie per come sono progettate e costruite sono vendute per rendere gradevole l'ascolto della musica emulando strutturalmente una curva di risposta gradevole al nostro orecchio. Per questo motivo venne creata appunto una curva chiamata Arman per poter creare dei prodotti più gradevoli agli ascoltatori e meno ai fonici. Normalmente un fonico vorrebbe avere un ascolto quanto più neutro possibile per poter fare delle scelte accurate in fase di mix o di mastering evitando di enfatizzare troppo le alte frequenze o le basse frequenze. Le cuffie non avendo bisogno di un ambiente per poter suonare possono essere più facilmente calibrate con una correzione tramite un equalizzatore che appunto si oppone alla curva con cui rispondono appena tirate fuori dalla scatola. Sonarworks come vedremo ne ha realizzate tantissime e ha creato delle curve standard di correzione che possiamo applicare come un plugin alla nostra catena audio ed avere un ascolto più equilibrato. Non perfettamente flat ma equilibrato. Loro affermano di correggere quindi il colore delle cuffie che possediamo. In questo modo possiamo avere un'immagine sonora più gradevole e schietta su cui far riferimento. Per quanto riguarda invece i monitor audio, quindi le casse, dobbiamo considerare che quando le ascoltiamo siamo costretti ad ascoltare anche il suono della stanza che incide almeno del 50% sul risultato finale. Si può trattare la stanza con dei pannelli fono isolanti ed avere una riduzione del fattore riflessione ma non sarà mai azzerato come in una cuffia. Sonarworks attraverso il loro sistema di analisi con un microfono fornito di serie, lo vediamo qui, riesce attraverso un particolare procedura che vedremo di analisi e che ovviamente dobbiamo fare in maniera manuale a correggere la risposta delle casse monitor per poter performare al meglio all'interno della stanza in cui si trovano. Un tool pazzesco quindi ed utilissimo per aggiustare e quindi per correggere i piccoli difetti che si trovano come vediamo all'interno della scatola c'è un foglio e il microfono eccolo qui che poi utilizzeremo per la correzione appunto dei monitor che sto utilizzando in questo momento e quindi mette a disposizione un tool veramente completo ed utilissimo per aggiustare quei piccoli difetti che si trovano sempre in tutti gli studi anche in quelli più pro. Sound ID come vedremo sarà possibile utilizzarlo all'interno anche della Do sia come sistema di ascolto principale dell'audio del nostro computer e attraverso un ponte tra sistema operativo e scada audio chiamato appunto system wide ma vanno alle ciance partiamo dall'interfaccia. Una volta loggati nel nostro account di Sonarworks avremo modo di scaricare la nuova versione di Sound ID il mio è Reference for Speakers and Headphones e ovviamente io provengo da una licenza di Reference for quindi ho fatto l'update direttamente a Sound ID. Dovremmo poi chiaramente loggarci per attivarlo sul nostro computer. Abbiamo a disposizione tre attivazioni quindi su tre computer diversi. Lanciamolo ed analizziamolo. Io ho già calibrato sia le casse in studio vedremo adesso come farlo sia la parte delle cuffie quindi ho utilizzato tutte le cuffie che ho a disposizione in questo momento che sono diverse eccole qui e potrò poi sceglierle durante l'ascolto e le casse che ho calibrato in questo caso le Adam T7V ma ho fatto lo stesso esperimento con le T8V proprio questa mattina per poter avere appunto una calibrazione delle mie casse. Questa è la risposta nello studio la vediamo in blu e quella verde poi è la curva di calibrazione che è stata applicata per correggere la risposta in studio. Questa ovviamente è la risposta delle Adam che già di loro non comportano problemi appunto all'interno di questo studio quindi ho delle piccole escursioni soprattutto più importanti nella parte medio-bassa rispetto alle alte dove è tutto abbastanza dritto. Vedremo poi adesso come utilizzarle. Ma diamo un'occhiata all'interfaccia è stata completamente ridisegnata e migliorata. Già a sinistra possiamo ora creare differenti output come abbiamo visto e preset in modo da poter caricare poi le calibrazioni delle varie cuffie che sto utilizzando. Quelle che ho indosso in questo momento sono le DT990 ma come vediamo utilizzo le Presonus, le HD650, le Adam SP5, le Audis LCDX. Oltre alle classicissime Sony MDR7506 mancano ancora i preset di LCD1 di Audis e 7509 HD sempre di Sony. Ma è possibile comunque richiedere queste calibrazioni a Sonarworks oppure inviare le nostre cuffie a Sonarworks per avere una calibrazione personale. Lo stesso sistema di preset lo ritroviamo poi all'interno del plugin lo vedremo dopo. Qui in basso abbiamo i dati relativi alla latenza in questo caso riferita al plugin stesso e ovviamente quando noi vorremmo una correzione più perfetta mettiamolo in Linear Phase. In questo caso la correzione è più precisa ma ovviamente aumenta del triplo la latenza impiegata dal plugin. È comunque utile in fase di registrazione poterlo utilizzare in Zero Latency e avere una correzione più o meno simile a quella del Linear Phase e ci permette appunto di utilizzarlo anche in recording a differenza degli altri suoi concorrenti. Abbiamo qui sotto ora la possibilità di spegnere accendere l'headroom mentre prima era posto qui sotto al master out. Possiamo farlo qui direttamente questo ci permette di evitare di andare in distorsione perché la correzione quando supera appunto un certo target il safe headroom ci permette di non andare in distorsione quando esistono quei picchi in queste zone delle cuffie. Poi comunque la parte alta delle cuffie è la parte un po' più critica di tutti i tipi di correzioni. Vedremo più avanti come Sonarworks ha sviluppato un sistema di custom target molto molto utile. Qui una volta attivata poi la nostra calibrazione possiamo qua in alto scegliere di accendere il simulated, il limit o il target per poter avere tutte le rappresentazioni possibili qui all'interno della nostra curva. Quindi abbiamo poi passandoci sopra una rappresentazione della correzione. Questo diventa poi più importante sugli speakers vediamo dove appunto succede anche una doppia linearizzazione per il canale destro e il canale sinistro. A differenza appunto delle cuffie che vengono considerate comunque con padiglioni molto simili. Ecco il canale destro e sinistro possiamo vederli della calibrazione before correzione in fase, la simulazione che dovrebbe essere il risultato di questa curva, il limit e i target. Il limit ovviamente è quello impostato qui nel nostro safe headroom. Possiamo comunque anche vedere soltanto le curve che ci interessano oppure vedere la curva non left e right ma soltanto left o solo right in maniera da avere un ordine più semplice da seguire anche ad occhio. Sempre qui a destra troviamo il controllo mono e stereo per ascoltare in mono o in stereo, lo swap dei canali quindi per ascoltare destro su sinistro e viceversa, l'accensione e lo spegnimento della calibrazione. Qui sotto una volta attivate le curve abbiamo i controlli relativi al limit quindi il normal, il max low frequency quindi scegliere di andare a piantare un limiter solo su alcune frequenze, non tutte, nella sezione soprattutto bassa e nella sezione alta. Quindi troviamo qui anche una possibilità di applicare un limiter agli estremi di banda sia bassi che alti. Qui abbiamo qui abbiamo a disposizione anche un listening spot che possiamo aggiustare quindi ad esempio abbassare una delle due casse. Questo è utilissimo perché poi le casse spesso non hanno nel caso delle adam dei controlli a step quindi chiaramente uno li esegue a mano ed è semplice sbagliare le piccole variazioni del potenziometro. In questo modo vengono corrette e quindi diventa più semplice anche avere left e right compensati adeguatamente. Questo ovviamente è fatto apposta per poter permettere all'immagine stereo di essere centrata nello spot dove noi ascoltiamo. È forse una delle cose più belle che possiede sound id in questo caso sulla correzione delle casse. Postandoci nella sezione custom target si accende un equalizzatore parametrico. Con questo sistema possiamo lavorare diversamente da come facevamo prima che avevamo soltanto un tilt per alzare alti e bassi. In questo modo possiamo andare a correggere le nostre curve di intervento applicando o no un equalizzatore sovrapponendolo quindi alla correzione di Sonarworks trasformando appunto in low shelf, bell e high shelf. In questo modo possiamo migliorare l'ascolto della correzione perché spesso può succedere che con alcuni modelli di cuffie soprattutto la correzione non avvenga in maniera molto corretta. Non a caso Sonarworks stessa suggerisce delle cuffie con cui il loro software performa al meglio. Quindi se non dovessimo ritrovarci in un ascolto perfetto con la nostra cuffia possiamo comunque sempre intervenire e modificare con delle curve appunto di correzione la correzione di Sonarworks. Specialmente nella parte alta spesso Sonarworks tende a scurire un po' tutte le cuffie quindi possiamo recuperarle in questo modo. La cosa interessante è che possiamo aggiungere punti all'interno del nostro equalizzatore e creare un'equalizzazione veramente molto complessa. Un ottimo sistema che è stato aggiunto a Sound ID Reference. Questo perché loro stessi nel manuale affermano che hanno comunque a cuore l'ascolto di tutti gli utenti e sanno che nessuno è in grado di avere lo stesso tipo di effetto dalla correzione anche dello stesso modello di cuffia e quindi pensano che sia giusto da parte dell'utente poter mettere mano alla correzione in maniera più approfondita e raggiungere il massimo del comfort con tutti i tipi di cuffie. Nel caso dei monitor in questo caso sto lavorando sulle Adam quindi non ho bisogno di una correzione target perché è venuta in maniera assolutamente perfetta. Possiamo però aggiustare l'intervento di sezioni intere della correzione. Questo che vuol dire? Ho fatto dei test con delle casse più professionali. Nel mio caso l'ho fatto con le Anfion e con le Rush Audio oltre che con le Genelec stesse e ho trovato che a volte la correzione non funziona perfettamente o sui Twitter o sui woofer. Questo magari entra in contrasto con la progettazione della cassa che in questi casi è più dettagliata e molto più studiata rispetto ad una cassa comune di ascolto e quindi possiamo ad esempio attraverso questi bracelet che troviamo qui a lato. Chiudere la sezione che non vogliamo correggere delle casse ad esempio dal KHz in su rimane assolutamente il Twitter puro della cassa e possiamo correggere per esempio soltanto il woofer. Possiamo fare la stessa cosa in maniera opposta spostandoci e quindi andando per esempio a un KHz oppure anche di più perché magari il woofer riesce ad arrivare tranquillamente anche a 4 KHz e quindi lasciare questa zona non corretta e correggere soltanto il Twitter. Anche questo fa parte di una customizzazione più estrema ma è assolutamente funzionale per chi non si trova poi con una correzione dello speaker e quindi Sonarworks mette a disposizione questi due nuovi tool quindi l'equalizzatore e il filtro per raggiungere una curva custom molto molto più funzionale rispetto a quella standard a cui eravamo abituati. Alcuni utenti infatti si sono trovati costretti ad aggiungere un secondo equalizzatore dopo la correzione delle casse per riguadagnare quello che sentivano perso dalla cassa e quindi hanno pensato di includerlo nel software quindi senza avere poi problemi di latenza e di fase tra l'equalizzazione di correzione e quella di ricorrezione. Se vi ricordate anche il video su RealPhones che ho pubblicato loro stessi proponevano una ricalibrazione del sistema di reference per poter restituire quella parte alta che andava un po' persa sulle cuffie, soprattutto sulle cuffie di fascia alta come ad esempio le HD 650. Quindi ripeto una mossa di responsabilità da parte di Sonarworks che appunto ammette che la correzione di cuffie o di casse potrebbe non essere perfetta per tutti e quindi è sembrato molto saggio da parte loro dare agli utenti la possibilità di aggiustarsi e quindi ricalibrare la calibrazione ed interpretare quindi al meglio i propri gusti. Quindi per me un applauso a Sonarworks per questa soluzione. Altra novità le preferenze sono state ridisegnate quindi quando noi andremo nel nostro preferences avremo un menu completamente diverso rispetto a prima molto simile a quello di Zoom estremamente funzionale. Vi ricordo anche eccellente la possibilità poi di mappare i midi, i controlli e i preset in maniera da poterli richiamare con un controller ad esempio molto bello molto intelligente come sistema. Rispetto sempre alla versione reference for abbiamo una grandissima novità per gli utenti di Windows dove adesso il sistema asio to asio è stato integrato quindi possiamo passare direttamente dalla Do al system wide senza inserire il plugin nella nostra catena all'interno della Do. Tutti i preset vengono storati nel nostro account di Sonarworks Sound ID quindi potremmo stare tranquilli di non perderli e l'interfaccia, altra grande novità, è ridimensionabile quindi molto bello poter ridimensionare l'interfaccia in base al nostro monitor. Ovviamente cambiano le scale di valori anche visivamente ma è un modo per avere un'interfaccia più ampia e quindi più precisa anche nella modellazione del nostro equalizzatore. Abbiamo ovviamente sempre comunque un dry wet qui in basso che ci permette di accentuare o meno la correzione rispetto alla curva originale. Anche il custom target può essere salvato separatamente con degli user preset. Ultima novità interessante è il translation check. Una volta entrati in questo sistema abbiamo modo di ascoltare il risultato del nostro mix o del nostro master in modalità in-ear headphones ossia gli apple pods, in-ear average, momentum eccetera eccetera oppure passare ad un ascolto da laptop quindi altri tipi di cuffie quindi risposte di cuffie alternative, uno smartphone per avere l'ascolto dal telefonino, gli studio speakers che sono sempre stati inclusi quindi l'NS10 in questo momento chiamate ns 11 e i mix cube che fanno riferimento ovviamente alle avant-tone e l'ascolto delle diverse tv quindi Japanese Korean TV average in modo da avere un ascolto simile a che esce poi dalla nostra tv molto molto bello e pratico come sistema. Andiamo a fare un'analisi e vediamo come funziona il sistema di calibrazione degli speakers. Andiamo ora insieme ad inserire il nostro microfono all'interno della catena e vediamo come calibrare gli speakers nel nostro studio. Viene lanciata una nuova finestra di reference measure, clicchiamo su measure e facciamo un check di quello che stiamo ascoltando quindi accolleghiamo il nostro microfono in questo caso quello di Sonarworks al preamplificatore verifichiamo che il nostro microfono sia poi alimentato dalla phantom power dopodiché controlliamo che il microfono l'ingresso del microfono arrivi direttamente agli speaker quindi lanciamo il nostro mixer della scheda audio e controlliamo che il segnale del microfono arrivi direttamente negli speakers. In questo caso il mio microfono sta entrando in un ingresso MADY quindi lo assegnerò all'uscita cuffie e lo alzerò in maniera ad averlo direttamente nelle casse in uscita. Togliamo il mute e ascoltiamo il segnale in uscita direttamente nelle casse. Facciamo ok e passiamo al secondo step ossia che l'interfaccia sia la stessa utilizzata dal microfono e come ultimo check andiamo a controllare che di trovarci a 44 kHz per il test quindi questo è molto importante facciamo attenzione a questo parametro e settiamo la nostra scheda audio a 44 kHz. Facciamo ok e proseguiamo. Inseriamo ora all'interno il numero di serie che troviamo sul microfono in dotazione. Questo è importante perché ogni microfono è stato già analizzato da Sonarworks e quindi già esiste una curva di risposta del microfono molto dettagliata. Eccola qui. Facciamo next andiamo avanti e adesso controlliamo su quale ingresso sta entrando il microfono. Nel mio caso è l'ingresso MADY 5. Una preview del suono che verrà utilizzato per la calibrazione. Facciamo next come vediamo in foto posizioniamo il microfono all'altezza delle nostre orecchie. Io suggerisco di utilizzare un'asta microfonica e non farlo a mano per avere una precisione più dettagliata. Questi sono poi i successivi passaggi quindi il primo è quello di mettersi nello sweet spot dove ci troviamo noi a lavorare e posizionarlo all'altezza delle orecchie al centro delle due casse. Attenzione a non essere esagerati. Una volta raggiunto l'ok facciamo direttamente verifying. Ok done. Quindi schiacciamo su done e andiamo avanti. Prossimo passaggio. Ora dovremo avvicinarci al woofer della cassa di 1-2 centimetri. Quindi facciamo attenzione a questo aspetto. Cerchiamo di non metterci davanti alla cassa perché questo sistema sarà in grado di misurare la distanza tra le due casse e la distanza poi tra le casse e lo sweet spot. Quindi come dicono le istruzioni non posizioniamoci davanti alla cassa né al centro delle due casse. Clicchiamo su next e andiamo avanti. Questa fase è molto molto importante e pregiudica la calibrazione poi del Sonarworks. Passiamo ora alla cassa a destra e replichiamo la stessa identica situazione. Lanciamo la misura tra le due casse. Il mio suggerimento è quello di prendere un metro misurare esattamente da centro cono a centro cono quanto è la distanza e se è differente al centimetro correggerla in questa finestra. Quindi inserendo in questa finestra la correzione della distanza. Potrebbe essere proprio non esattamente uno sweet spot ma comunque è il nostro listening spot. Quindi clicchiamo su next e andiamo a verificare la distanza tra il microfono quindi il nostro punto di ascolto e i woofer. Sempre all'altezza delle orecchie all'interno di punti nella stanza. Sarà semplice perché partendo dal nostro punto di sweet spot verrà fatta una prima analisi. Dopodiché spostiamo a mano la base dell'asta affinché il microfono si centri all'interno del cerchietto che viene indicato da Sonarworks. Ci vengono chiesti ben 37 punti di ascolto. È un po tedioso ma in una ventina di minuti riusciamo sicuramente a fare questo tipo di calibrazione. ho sicuramente commesso un errore di calibrazione quindi ricontrolliamo sempre con il centimetro questo è fondamentale all'interno della stanza il reale. La reale distanza tra i woofer e tra i woofer e il microfono quindi facciamo molto attenzione a questo tipo di situazione. Salviamola comunque e poi vi mostro la curva esatta una volta ricalibrato in maniera più corretta. Come vediamo ora il sistema ci mostra una calibrazione più naturale soprattutto sui bassi non ho più quel boost eccessivo che avevo prima. Sound ID ci permette con una sola applicazione di correggere sia le cuffie sia i monitor in studio. È l'unica al momento in grado di farlo su entrambe i dispositivi. Attualmente quindi è il software di correzione cuffie più diffuso al mondo. È abbastanza leggero in modalità zero latency. Utile quindi come dicevamo in fase di recording se ne abbiamo bisogno ma per usarlo con una calibrazione corretta bisogna andare in modalità linear phase. Possiede ora una libreria di ascolti standard a cui far riferimento per ascoltare il nostro mix come abbiamo visto nella translation check. La correzione degli speaker rimane il punto di forza di Sonarworks. Ora migliorato rispetto alla versione precedente riesce a calibrare in maniera eccellente tutte le casse entry level e semi pro su cui l'ho testato. Alcune casse come le Adam, le Focal o le Yamaha ad esempio godono di un miglioramento tangibile e che rende SoundID un must per tutti gli home studio e i project studios. Ricordiamoci per chi non era soddisfatto della correzione di Sonarworks soprattutto sulle cuffie perché non era efficace o danneggiava la percezione dei transienti questo ora è possibile modificarlo attraverso appunto una ricalibrazione interna. Una mossa astuta da parte di Sonarworks e che la rende più versatile soprattutto oggi in un mercato dove esistono dei concorrenti molto molto forti. Ho notato che la correzione risponde meglio su alcuni modelli di cuffie e meno su altri. Non a caso Sonarworks stessa pubblica annualmente un pdf con all'interno le cuffie che loro stessi ammettono di riuscire a migliorare in maniera consistente. Quindi facciamo sempre attenzione anche al tipo di modello di cuffia che possediamo e confrontiamoli con quelli che loro suggeriscono e quindi cerchiamo di avvicinarci anche alla migliore correzione possibile grazie a questi suggerimenti. Manca ancora una parte del software molto importante per chi adora lavorare in cuffia ed è la definizione del ghost center. Infatti attualmente siamo costretti ad interfacciare Sonarworks con Canopener ad esempio per avere questo tipo di immagine molto più ravvicinata del mid ma sono sicuro che sound id crescerà anche in questo senso. Infine come dicevo ho fatto vari test su diversi speaker e non tutte le casse rispondono bene al trattamento soprattutto quelle di fascia alta pro che vengono un po' penalizzate dalla correzione soprattutto quando i twitter sono progettati con sistemi innovativi e differenti dal solito. Fortunatamente possiamo isolare la correzione della parte alta e limitarla al woofer ed utilizzarlo nella zona più importante. Personalmente reputo sound id ancora un must per chi possiede un project studio o un home studio ed è assolutamente in grado di risolvere tantissimi problemi di risonanza delle casse nella stanza in cui le mettiamo. Più la stanza ovviamente è trattata meno saranno gli interventi ma comunque riesce a fare un eccellente lavoro di calibrazione sia sulle casse sia sulle cuffie. Il mio consiglio come al solito è di scaricare la demo provarlo sul vostro sistema e poi decidere di acquistarlo. Io l'utilizzo già da diversi anni ne sono estremamente soddisfatto. Spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proadio learning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su facebook youtube e music off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto ciao a presto Ciao a presto